Oggi venerdì 7 giugno, ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni comunali. A Giulianova i quattro candidati alla carica di primo cittadino sono pronti a concludere i loro appelli al voto con comizi in diverse piazze della città. Al fianco della ricandidatura del sindaco uscente Ivan Costantini troviamo nove liste in appoggio, quattro politiche di centrodestra e cinque civiche con un totale di 144 candidati. Le liste sono Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Verso Giulianova, Giulianova in Movimento, Obiettivo Giulianova, Ivan Costantini sindaco e Giulianova Turismo. Sono cinque le liste in appoggio invece di Alberta Ortolani di cui due politiche di centrosinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e tre liste civiche, il cittadino governante per cambiare, Alberta Ortolani sindaca e per Giulianova con Alberta Ortolani. In suo appoggio ci sono 78 candidati consiglieri. Il candidato Romano Lanciotti è appoggiato da 28 candidati consiglieri e due liste, Giulianova Unite, Insider. Infine troviamo Daniele Di Massimo Antonio, anche lui con due liste, Nos Noi e Cultura Politica per un totale di 32 candidati consiglieri. Giulianova si appresta dunque a vivere un confronto elettorale molto partecipato, vista la presenza di quattro candidati sindaco e ben 282 candidati consiglieri. La cittadina costiera è una dei tre comuni abruzzesi al voto con più di 15.000 abitanti. Questo significa che la sfida potrebbe anche essere decisa al ballottaggio.